ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro brightling da spulciare e già qualche tempo fa ho portato sul canale il brightling super ocean heritage nella sua versione con quadrante blu soleil e quel bel bracciale maglia milanese tanto fancy tanto simpatico da guardare e oggi ne porto un altro un altro super ocean che però in comune ha solamente il nome perché si tratta di un orologio dall'aspetto completamente differente sia per aspetto estetico appunto sia per qualità dei materiali per tipo dei materiali meglio dire questo orologio qua è uscito da pochissimo da qualche mese e devo dire che quando è uscito non mi ha sconfinferato più di tanto mi ha lasciato abbastanza diciamo indifferente no poi con il tempo piano piano ho incominciato ad apprezzarlo per questo suo aspetto così particolare originale fino ad arrivare a oggi a questo periodo qua che lo ritengo completamente adatto a me cioè rientra pienamente nei miei gusti ora questo modello qua esiste in varie configurazioni di acciaio in bronzo che è quello che porto oggi e con vari centurini e poi soprattutto in tre dimensioni 42 44 e 46 mm io chiaramente ho scelto il 42 mm c'è da dire che quindi le considerazioni che farò valgono più o meno per tutti i modelli per tutte le varie declinazioni di centurino metallo a parte appunto per il discorso del bronzo che vale esclusivamente per questo modello e come ovvio che sia l'orologio lo avrete visto l'ho anche guardato in primis in negozio dal buon giacomo durante un video e è successo che ho deciso di portarlo a casa di portarlo qua sul canale quindi devo ringraziare buon giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che me lo ha messo a disposizione vi ricordo che è concessionario del marchio e di altri marchi una 30 cinquina e che quindi offre anche un trattamento di favore a voi che state guardando niente più niente di meno a me mi mette a disposizione gli orologini io li prendo e li porto a casa ora non mi resta che farvi vedere l'orologio del giorno che in questo caso è questo bellissimo omega si master 300 il diver professional di casa omega infatti il suo nome sarebbe si master professional 42 mm di diametro cassa calibro 8800 realizzato da omega con scappamento quassiale come si suol dire orologio che sembra che non abbia il vetro un po come questo che andremo a vedere hanno in comune questa cosa che il vetro è quasi inesistente talmente è ben fatto l'antiriflesso le accomuna queste questa cosa niente giriamo la camera diamo un'occhiata all'orologino e poi ci troviamo qua come sempre per le considerazioni finali diamo un veloce sguardo ai risultati delle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 42 mm spessore 12.3 ingombro trasversale al polso 47 mm e interasse ansa da 22 mm misure tipiche di un diver contemporaneo osi dire quelle ideali ma c'è anche qualche annotazione da prendere intanto il lag to lag di 47 mm che è piuttosto contenuto per un orologio di questo diametro le ansie sono infatti alquanto corte e lui si evince chiaramente dall'attaccatura del centurino che appare molto vicino alla cassa non lascia spazio inoltre lo spessore di soli 12.3 mm che per un diver a 300 metri risulta essere un parametro molto buono il risultato è un orologio che al polso appare veramente ben proporzionato e quasi sottile se poi aggiungiamo il fatto che il quadrante è di dimensioni apparentemente contenute ecco che la buona indossabilità è palese quando dico quadrante intendo la porzione scura dello stesso se infatti osserviamo l'orologio dall'alto notiamo che i 42 mm comprendono la ghiera girevole l'anello interno di color bronzo e il disco centrale color verde scuro ed è proprio quest'ultimo a determinare la resa visiva al polso d'altronde gli indici sono applicati su questa porzione interna e tutte le informazioni dell'orario sono contenute nei 26 mm del disco centrale disco centrale che pur essendo di un verde oliva molto scuro appare spesso come nero si tratta di una finitura degradé che tende al nero verso i bordi ma la differenza è così sottile che la sensazione di avere un orologio nero è molto forte solamente in presenza della luce naturale viva riesce a mettere in mostra qualche sprazzo di verde una scelta che lo pone nell'ambito sobrio degli orologi a quadrante verde senza eccessi e senza quella smaccata sensazione di troppo acceso è proprio su questo verde scuro che troviamo come dicevo tutti quegli elementi deputati alla lettura dell'orario l'assenza del datario permette il posizionamento equilibrato dei markers che risultano essere di forma piuttosto originale chiaramente sovradimensionati il fine ultimo della leggibilità è una costante in tutto il quadrante gli indici sono applicati ed in rilievo rispetto al fondo con una cornice a finitura metallica color oro rettangolari ma che rendono quasi l'idea di essere quadrati e ben visibili grazie all'abbondante superficie ricoperta di superluminova appare poi a quanto inusuale la forma della sfera minuti con quel quadratone molto presente che gli permette di essere individuata al volo d'altronde è quella deputata ad indicare il tempo di immersione diciamo che è l'unico elemento che con cognizione di causa va a rompere la simmetria finora vista ci sono poi due piccoli dettagli da rimarcare il bel logo brightling ad ore 12 come sempre in rilievo e ben lucidato e la sfera dei secondi con quel minuscolo lollipop che gli permette di essere tenuta sotto controllo senza però risultare invadente allontanandoci un poco si può poi apprezzare il globale risultato cromatico che si ottiene è risaputo che il color bronzo e il verde scuro risultano accoppiarsi in maniera gradevole e qui se ne ha la conferma grazie anche a quell'anello interno che permette di apprezzare due colori accostati uno all'altro la finitura è gradevole una striatura concentrica interrotta solamente dagli indici stampati in vernice nera e lucida una soluzione che permette di avere la minuteria esterna rispetto al quadrante una soluzione originale che di solito è prerogativa delle bug interne girevoli come si vede appare leggermente inclinato in modo da restituirci una certa profondità visiva con lo scopo di andare a congiungere quadrante e vetro zaffero quest'ultimo appare leggermente bombato ma soprattutto è dotato di trattamento antiriflesso su entrambi i lati il risultato è sotto gli occhi di tutti le riprese video non hanno incontrato problemi di sorta e ad occhio nudo sembra essere senza vetro riflessi che si notano invece lungo la ghiera unidirezionale infatti l'inserto è in ceramica nera non si graffierà e non scolorirà nel tempo mantenendo l'aspetto originale così nitido e pulito cosa quanto positiva dato che gli accenti ivi presenti sono inseriti all'interno tramite incisione lo si nota mettendola contro la luce in modo da poterne apprezzare la profondità la rotazione è fluida e sicura senza intoppi grazie anche al bordo zigrinato che offre un buon grip alle dita zigrinatura in bronzo che riprende sia l'anello esterno che la cassa qui occorre aprire una parentesi sul tipo di bronzo utilizzato ormai è sempre più difficile che vengano utilizzate casse in bronzo standard si tende ad utilizzare le più disparate leghe di bronzo in modo da poter tenere sotto controllo il viraggio e non farlo arrivare all'estremo anche qui si è optato per una lega particolare che a dieta di brightling consentirà la cassa di raggiungere un determinato viraggio senza andare oltre la patina superficiale lo si evince anche dal fondello a vite che è in bronzo anch'esso solitamente negli eroggi in bronzo il fondello è in acciaio si cerca di evitare il contatto con la pelle in quanto il ph di quest'ultima in certi casi potrebbe far reagire eccessivamente il materiale e sporcare il polso in questo caso evidentemente non c'è pericolo lo potremmo definire un bronzo asettico ci saranno sicuramente gli estimatori e i detrattori di certo non si può dire che non siano riusciti a presentarcelo con finiture curate che sarebbe un peccato perdere per l'eccessivo viraggio la parte laterale della carol vede una spazzolatura longitudinale molto fine che termina nel momento in cui va ad incontrare la smussatura lucida lungo le anse così come dall'altro lato appare piacevole l'incrocio di linee risultanti dalle spallette di protezione che si vanno ad unire proprio in corrispondenza della corona che vi ricordo è a vite come il fondello e che il tutto è propedeutico ad una impermeabilità di ben 300 metri essendo un diver 300 quindi ha bisogno di una certa risposta al buio in assenza di luce tutti gli accenti del quadrante svolgono la propria funzione alla perfezione da segnalare la riconoscibilità della sfera minuti e il necessario dot luminoso sulla ghiera ad ore 12 all'interno di tutto questo bronzo moderno batte il calibro che anima l'orologio ossia il brightling 17 non lasciatevi sedurre dal nome altisonante che gli assegna la casa si tratta dell'sv 200 che sellita realizza per brightling un calibro che abbiamo imparato a conoscere e sul quale appare superfluo in questa sede un eventuale approfondimento si può di certo sottolineare che almeno è nella sua espressione più pregiata ossia la versione cronometro quella con finiture e materiali top grade e certificata cost dal noto laboratorio svizzero si tratta quindi di un calibro di fornitura ma con un minimo di valore aggiunto in ultima analisi non resta che di squisire a riguardo del cinturino un verde militare scuro che si palesa per tale qui non ci sono giochi di luce a mitigarlo e devi piacere per quello che è vedremo poi nelle conclusioni una alternativa valida è in caociu quindi gomma naturale con la conseguenza di essere morbido e ben avvolgente e termina con una chiusura deployant singola piuttosto massiccia è in bronzo come la cassa e realizzata in modo e maniera da risultare robusta come poche altre da segnalare che i due pulsantini di apertura agiscono direttamente sui bracci della cerniera interna e che è presente un sistema di regolazione fine a pressione l'escursione di ben 15 mm che consente di trovare facilmente la misura adatta al proprio polso possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali misura adatta al proprio polso ok ma io devo confessarvi che non sono riuscito a capire come si smonta la clasp da centurino probabilmente per mia inettitudine non ho nemmeno voluto insistere perché non si tratta di un orologio mio quindi quando ho visto che non riuscivo a capire ho lasciato perdere quindi se dovete accorciare il centurino tagliarlo io direi che è il caso di farlo fare dal negoziante o da un professionista perché è un po complicato perlomeno io non l'ho capito e poi la variante ecco la soluzione se non vi piace il cinturino verde militare no vabbè potete prendere in un'altra configurazione però potete anche comprare un cinturino aggiuntivo perché io per curiosità sono andato sul sito web di brightling per vedere quanto costa un cinturino in cauccio aggiuntivo e costa 84 euro che non è assolutamente la fine del mondo si può acquistare quindi un cinturino nero però solamente la parte in cauccio senza deployant con la deployant costa molto molto di più oltre 400 quasi 500 quindi pensate quanto viene a costare quel pezzettino di bronzo di metallo dico solamente il cinturino costa 84 euro però una volta che poi avete il cinturino dovete smontare la deployant e si torna al punto di prima che io non so spiegarvi come si fa non ci sono riuscito è mea culpa mea culpa mea culpa poi un altro punto che mi ha lasciato un attimino interdetto perlomeno su questo modello qua è che quando si avvita la corona bisogna fare molta pressione perché sennò se stai se sei sovra pensiero che cerchi di evitarla semplicemente non prende bisogna premere e girare questo ricordatevelo poco male però c'è anche questo punto poi per il resto i punti positivi quali sono l'abbinamento colori qua è spaziale proprio al polso ti dà un'idea veramente di pregio chiaramente il pregio è dato anche dalla qualità delle finiture dal vetro trasparentissimo dal quadrante in cui tutti gli indici sono posizionati in maniera impeccabile insomma lo si vede lo si sente che di pregio chiaramente bisogna far finta di niente a riguardo del calibro nel senso che è un classico sellite sv200 seppur nella sua versione più pregiata è sempre un calibro di fornitura quindi bisogna farsi andare bene quel punto lì come un po come io con il mio bright ring cronoma gmt ci ho letto a 28 93 cioè bisogna essere disposti a questo c'è chi è disposto chi non è disposto un compromessino va sempre trovato come dico io io poi vi ho messo sul piatto tutte le cosine che dovevo mettere sul piatto sono lì voi soppesate e decidete se può essere un orologio che rientra nei vostri gusti un po anche per andare fuori dagli schemi no un orologio originale che secondo me negli anni diventerà un orologio rappresentativo del marchio perché non assomiglia a nessun altro è questo punto quindi poi voi decidete ho detto le mie cose voi dite le vostre cose ma che c'è frega a noi boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero abbiate apprezzato il video per lo meno il presentatore e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love